bentornati a tutti nel canale in questo nuovo video andiamo a vedere l'aggiornamento diretto da openhab 3 a openhab 4 mi sono predisposto il raspberry 3 con la stessa identica versione che ho sul raspberry 4 e con gli stessi dati in modo tale da provare l'aggiornamento diretto con i comandi di sistema ok ripartiamo dalla nostra installazione di openhab 3 sul raspberry 3 in modo tale da replicare la configurazione che ho sul raspberry 4 e provare l'aggiornamento a openhab 4 lanciamo quindi un restore di uno degli ultimi backup che ho del raspberry 4 e importiamo i dati importazione finita adesso riavviamo openhab e aspettiamo adesso ci andrà un po prima che si sistemino tutte le tutti gli oggetti di configurazione e però prima poi dovrebbero arrivare poi i dati andiamo a controllare un po la configurazione mentre aspettiamo che venga tutto ripristinato correttamente speriamo bene sembra essere tutto online a parte qualche eccezione e vediamo che anche i dati arrivano nella home page andiamo quindi adesso ad aggiornare la nostra installazione di openhab 3 replica di quella che ho sul raspberry 4 e la andiamo ad aggiornare con la milestone versione 4 in questo momento è uscita dalla milestone 2 e quindi proveremo l'aggiornamento alla milestone 2 la prima cosa da fare seguendo la documentazione è quella di andare ad aggiornare la versione di java perché openhab 4 utilizza java 17 mentre openhab 3 utilizza una java un po più vecchia io al momento la java 11 installata andiamo a verificare andiamo quindi a scaricare la build azul di java 17 andando direttamente sul sito ufficiale e scaricando il pacchetto dobbiamo selezionare la versione giusta per il nostro raspberry poi scarichiamo il pacchetto e lo andiamo a copiare sul sul disco del raspberry una volta copiato il file sul raspberry andiamo a scompattare in una cartella piacere finita la scompattazione spostiamo i file in una cartella che poi diventerà la cartella di installazione di java e poi facciamo una veloce prova per vedere che effettivamente la versione sia quella corretta e adesso aggiorniamo il link che punta all'eseguibile java alla nuova versione quindi un nuovo patch di installazione della java 17 e ci siamo andiamo adesso ad aggiornare openhab utilizzando i repository ufficiali e controlliamo prima però come siamo configurati da quel punto di vista vediamo che pacchetti ci dà a disposizione il repository ufficiale ok come vedete l'unico aggiornamento che ci dà è all'ultima minor release della versione 3 questo perché dobbiamo aggiornare i repository da cui andare a leggere i pacchetti siccome openhab 4 non è ancora stable ma è in testing dobbiamo aggiornare il repository e andare a dirgli che vogliamo anche le versioni testing andiamo ad aggiornare quindi un attimino i pacchetti e adesso controlliamo che versione a disposizione ci dà per openhab ecco che abbiamo la 4 milestone 2 possiamo quindi adesso lanciare l'aggiornamento alla versione 4 aggiornamento completato adesso facciamo un bel reboot riavvio effettuato adesso andiamo a vedere tramite la console di openhab la versione attualmente installata ed ecco che è la milestone 2 della versione 4 adesso verifichiamo lo stato del servizio dovrebbe essere fermo infatti e quindi lo avviamo come prima adesso dobbiamo aspettare un po' per far sì che il sistema ricostruisca un po' tutti gli elementi e poi andiamo a vedere se i dati iniziano ad arrivare ok sembra tornato tutto abbastanza verde quindi adesso andiamo a vedere sulla home page se iniziamo a vedere i dati ok i dati ci sono quindi diciamo che in linea di massima il sistema sta funzionando con la nuova versione ci sono anche i vari floor plan le luci la luce dello studio ad esempio è accesa la lampada quindi sembra che funzioni tutto correttamente